Controlliamo le informazioni. Che cosa vuoi? Ehi, Cam. Come sta il tuo amico Luis? Come diavolo sai di... Degli di cambiare aria. Elimina quel tizio in modo plateale. Degli di cambiare. Ok, Carugna. Ora hai esagerato. Oh, tu dici? Zitto. Vediamo se parlerai ancora dopo che i miei avranno finito con te. Gravolo, stammi lontano. Un'amp App 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 Appad App 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 A lui serve un'auto nuova Lo sai che alla fine ne resterà soltanto uno Non necessariamente Vattene via Ormai è troppo tardi per farlo Ci vediamo Ciao